Grazie a tutti. Non ti lascerò rovinare tutto. Grazie, Isaac. Adesso è ora di morire. Cosa? Il tuo è l'ultimo corpo che dobbiamo far rinascere. I fautori devono essere assidrati. I fautori? Parli di me? Ma Stross ha detto che potremmo distruggere il marchio. No, se ti consumeremo prima. Cazzo, io mi fidavo di te. Fa il culo a te e fa il culo al tuo marchio del cazzo. Grazie. 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 Iwak, prendi la mia mano. Ci provo. Ci provo. Chiudi il portello. Chiudi il portello. Alla prossima. Che c'è? 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 Che c'è?